buongiorno a tutti dobbiamo parlare delle partite del campionato di sabato e domenica la 36esima giornata quindi oggi e domani quindi bando alle ciance partiamo subito con milan verona che io ho segnato siccome non so in questo momento più o meno quasi tutti i pronostici non so cosa mettere io milan verona mi lancio su un gol gol così gol tendenzialmente dovrebbe essere un 1 però in questo momento non si sa cosa cosa combini il milan visto che ha perso in casa col benevento poi è andato a vincere a bologna non vorrei che tanto mi dà tanto mi perde col verona poi mi va a vincere la prossima fuori casa perché anche lui in questo momento è squadra un po' pazzarella stessa cosa juventus bologna io mi arrischio un gol anche se mi sa che pagherà anche parecchio perché tendenzialmente la juve mi sa che 1 a 0 e la chiude lì però se volete tentare un gol anziché mettere l'uno che è abbastanza scontato pagherà anche poco magari un gol è un po' a rischio però ci può stare udinese inter delle 12 e 30 come sapete non mi sbilancio spero che sia un 2 però ci abbiamo questo d'albert che gioca non gioca gioca santon gioca d'albert a centrocampo ci abbiamo nonno valero quindi boh vedremo cosa succederà veniamo alle partite delle 15 allora chievo crotone 1x penso non credo nella 2 del crotone con il chievo però mettere un 1 fisso potrebbe essere abbastanza rischioso quindi potrebbe essere una partita da gol o se no se volete metterla doppia però poi pagherà poco se no c'è il rischio o mettere la x come ha fatto qualcuno che paga bene o se no l'uno che però mi sa non pagherà tantissimo genova fiorentina vale lo stesso discorso x 2 e anche qui volendo si potrebbe mettere gol così mentre invece per quanto riguarda il lazio atalanta napoli torino e spa al benevento mi sono arrischiato per tutti e tre gol così me li arrischio tutti e tre e vediamo che succede anche perché lazio atalanta devo sperare in un x napoli torino devo sperare in un 1 e spa al benevento tendenzialmente a un 1 però benevento se la sta giocando con tutti quindi non do per scontata la vittoria della spala anche se sulla carta dovrebbe esserlo visto che ormai il benevento è in serie b e la spal si sta giocando alla salvezza con altre cinque quattro squadre quindi veniamo alla partita delle 18 sassuolo sandoria anche qui ho messo gol perché comunque sassuolo è abbastanza tranquillo a 37 quindi più 6 sulla sulla spal tendenzialmente abbastanza tranquillo la sandoria invece ha bisogno di punti però il sassuolo non è che in casa si lascia battere tanto facilmente quindi per non saperne leggere e scrivere mi arrischio un gol e vediamo che cosa succede e infine c'è la partita delle 20 e 30 cagliari roma che anche qui mi sono arrischiato un gol perché francamente io devo augurarmi un 1 x i romanisti giustamente si augurano un 2 o addirittura un 2 quindi siccome anche qui il pronostico non sai come metterlo visto che comunque anche il cagliari è con l'acqua alla gola anche perché se il sassuolo dove la spal dovesse battere il benevento li scavalca e resterebbero lì come così vale lo stesso discorso del chievo se batte il crotone supererebbero entrambe il cagliari che resterebbe lì e il suo calendario non è proprio al massimo quindi mi arrischio gol e vediamo che cosa succede bene le abbiamo dette tutte cinque se dovessi viceversa fare un pronostico milan verona 1 juventus bologna 1 lazio atalanta x napoli torino 1 spalvelemento 1 sassuolo sandoria 2 e cagliari roma mi arrischio lì x udinese inter come vi ho già detto non dico nulla bene vi ho fatto un riepilogo vi ho dato qualche consiglio non prendetelo sempre prendeteli sempre con beneficio di inventario perché io non ci azzecco mai quindi quello che vi ho detto fate il contrario che così andate sul sicuro o poi magari escono tutti e dieci clamorosamente vi saluto vi ringrazio spero che i due video dei musicali che vi ho inserito del concertino che è stato stasera di questo gruppo metal molto bello si riescano almeno a sentire intravedere perché purtroppo la visibilità era quella che era e io non ho una super macchina tecnologica quindi spero che si possa intravedere quanto basta si possa sentire quanto basta ciao